Oggi siamo qua a fare un percorso abbastanza facile, il sentiero del Dirt, stiamo partendo da Barchis verso dopo Prodenone e niente adesso faremo questo breve percorso panoramico, pensiamo di arrivare a una terrazza panoramica, a una o più terrazze panoramiche per fare un po' di foto e video dall'alto, la giornata è bellissima, c'è ancora parecchia neve sulle montagne, le montagne sono quelle di Piancavallo più o meno, ce ne sono anche altre, se ne vedono altre, adesso mi seguo, andiamo! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!